La riforma sanitaria ospedaliera siciliana abbozzata dall'assessorato al ramo isolano è destinata a danneggiare ancora una volta l'ospedale di Gela e se qualcuno si sta trattenendo dal festeggiare è solo perché si è in attesa dell'approvazione definitiva della bozza di riforma magari promettendo nel frattempo l'istituzione di due o tre unità operativa complessa per l'ospedale gelese. In una prospettiva a medio e lungo termine non si può fare a meno di realizzare che l'ospedale di Gela subirà un danno da questa riforma qualora venisse integralmente accettata nel suo impianto di base. La denuncia è del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. Il sistema individuato in Sicilia infatti è quello degli hub e spoc. È un sistema simile ad una ruota di una bicicletta. Gli hub sono il centro, dialogano con tutti gli ospedali del bacino di riferimento e soprattutto ricevono i casi gravi che non possono essere trattati dagli spoc per mancanza in quest'ultimi di strutture adeguate. Gli spoc sono i raggi che non dialogano tra loro né con le altre strutture ospedaliere benché di livello inferiore, di base, di zona risaggiata, a rischio ambientale, ma interloquiscono e si interfacciano soltanto con l'hub. Con questa riforma, per dirla tutta, il riferimento per lo spoc Vittorio Emanuele III di Gela è l'hub Santeria di Caltanissetta. Nell'amara consapevolezza che tutte le volte in cui siamo stati associati a Caltanissetta, dice il Comitato, Gela purtroppo ha pagato dazio, anche con lacrime di sangue. Il Comitato ricorda quanto è successo con la creazione delle asp in cui Gela perse la sua autonomia ospedaliera, con i risultati negativi che tutti vediamo. Caltanissetta diventa Dipartimento di Emergenza e Assistenza di secondo livello e qui iniziano i primi problemi. Il rischio concreto che si rileva per Gela è quello di perdere il secondo livello di ginecologia e ostetricia, nonché l'UTIN, l'Unità Terapia Intensiva Neonatale. Perché un centro DEA deve affrontare anche le emergenze neonatali, ginecologiche e ostetriche, quindi può un hub essere sprovvisto di UTIN, pronto soccorso ostetrico-ginecologico, la ginecologia e l'ossetricia di secondo livello? Assolutamente no. Si può creare un altro centro materno-infantile di secondo livello a Caltanissetta? Nemmeno questo è possibile, in quanto i bacini minimi per le UTIN e la ginecologia di secondo livello sono di circa 60.000 abitanti. Agrigento ha il suo centro materno-infantile di secondo livello, enna anche, quindi cosa avverrà? La scelta più probabile sarà quella di mettere tempo farcito di promesse e garanzie, evitando intanto di istituire a Gela la ginecologia e l'ossetricia di secondo livello e l'UTIN, fin quando le condizioni diventeranno favorevoli per istituire queste importanti strutture presso l'ospedale di Caltanissetta, senza le proteste dei Gelesi. Finiscono anche i sogni per il Dipartimento Oncologico di Eccellenza. In buona sostanza Caltanissetta è hub, Agrigento è la piccolissima Enna Spock, ma ha capoluoghi di liberi consorsi e quindi non temono nulla, mentre Gela, la solita cenerentola, sarà il centro di raccolta della merce per giustificare l'hub a Caltanissetta. Preferiamo di gran lunga, chiude il comitato, come già avviene nelle altre realtà, usufruire dei veri hub di città, come quelli etnei, anziché avere come riferimento un ospedale di campagna promosso da quelli che il comitato definisce politicanti ad hub di campagna. Il contribuente gelese è trattato a pesci in faccia dalla società di discussione proprio nel momento in cui, grazie alla definizione agevolata dei ruoli in scadenza il 31 marzo prossimo, centinaia di cittadini tentano di conoscere i propri carichi a ruolo e come possono definirli. Non usa giri di parole Giulio Cordaro, presidente della Libera Associazione Consumatori della provincia di Caltanissetta. Il cittadino è obbligato a fare ben quattro file. La prima per conoscere l'ammontare del versamento da fare per ottenere l'estratto ruolo. La seconda per presentare l'istanza per chiedere l'estratto ruolo. La terza per andare a ritirare, dopo circa 15 giorni proveniente da Caltanissetta, l'estratto ruolo. La quarta per presentare l'istanza di definizione agevolata. Naturalmente, per complicare la vita ai contribuenti, le menti eccelse di discussione sicilia, rincara Cordaro, accettano il pagamento con Bancomat solo per pagare cartelle, ma non per pagare i pochi euro dovuti per il rilascio dell'estratto ruolo. Il colmo si è però verificato in questi giorni, dopo che i vertici palermitani hanno ridotto gli orari di apertura dello sportello di Gela da 5 a 2 soli giorni alla settimana, il martedì e il giovedì. 11 ore settimanali di apertura e ovviamente lunghe file e cittadini che si mettono in fila già alle 6 del mattino. La libera associazione ai consumatori della provincia di Caltanissetta chiede con forza, a riscossione Sicilia, di rispettare i contribuenti che meritano di non essere trattati come pecore o come carne da macello. Chiede quindi che lo sportello di Gela venga immediatamente riaperto per 5 giorni alla settimana e che il personale, in atto una sola unità, venga adeguatamente impinguato così da offrire ai cittadini un servizio veloce e dignitoso. E' considerato che i servizi resi da riscossione Sicilia sono servizi pubblici, in caso di mancata attivazione, chiude Cordaro, non esiteremo a denunciare all'autorità giudiziaria i vertici di riscossione Sicilia per il reato di interruzione di pubblico servizio. E il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Gela, in merito proprio ai disagi denunciati, non riesce a comprendere come nel comune più grande della provincia, in termini di utenti e di volume percentuale di riscossione dei tributi rispetto all'intera provincia, sia possibile avere due soli impiegati, spesso non contemporaneamente presenti per motivi di salute o altro. In questo particolare momento di afflusso consistente di utenti, aggrava alla situazione dell'ufficio di Gela la mancanza di personale qualificato. Il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, ricamandosi ai diritti costituzionali dei cittadini, sollecita provvedimenti urgenti da parte della direzione al fine di rafforzare la presenza di impiegati nello sportello di via Marsala, per evitare che professionisti ed utenti siano spinti indirettamente a rivolgersi agli sportelli di Caltanissetta, con aggravio di spese a carico di ciascuno. Della vicenda sono stati informati il prefetto e il sindaco di Gela. Gli operatori portuali di Gela non ne possono più di vedere quel porto rifugio insabbiato, tante le promesse, ma la situazione non cambia. I soldi ci sono per procedere alla recupero della struttura, ma tutto è fermo. L'Eni lo scorso 27 settembre ha messo a disposizione 5 milioni e 600 mila euro prelevandoli dai fondi di compensazione destinati a Gela, così come previsto nel protocollo siglato il 6 novembre del 2014 per la riconversione della raffineria, ma dopo l'annuncio in Pompamagna rimane tutto paralizzato. Il pescaggio si è ridotto notevolmente, siamo al di sotto di un metro e il maltempo degli ultimi giorni ha peggiorato una situazione che oramai è ai limiti del grottesco. L'unica speranza è che non succeda nulla di serio a mare perché la situazione è davvero grave. I mezzi antincendio non possono più uscire dal porto e parte del portoisola è oramai interdetto. I mezzi antinquinamento, barcaioli e piloti partono dal porto di Licata. Insomma, una situazione insostenibile anche per i pescatori che tra qualche giorno non potranno più andare a lavorare. In tutto questo si evidenzia la lentezza burocratica che non ha ancora dato il via libera ai lavori di dragaggio. Attualmente tutto giace al Ministero dell'Ambiente dove lo scorso 2 dicembre la protezione civile regionale ha inviato i documenti per ottenere il parere e la valutazione del piano di caratterizzazione e si è in attesa che l'apposita commissione ministeriale si riunisca per emettere il parere. Il comitato del porto del Golfo di Gela, preseduto da Massimo Livoti, si appella adesso alla deputazione nazionale. Gli esponenti del comitato hanno deciso di giocarsi la carta dell'intercessione della deputazione missena inviando la lettera agli onorevoli Azzurra Cancelleri, Daniela Cardinale e Alessandro Pagano per chiedere loro di intervenire presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente. Al fine di sollecitare la procedura di valutazione e approvazione del piano di caratterizzazione ambientale propedeutico al progetto di dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del porto rifugio di Gela. A Natale avevano invece inviato una lettera in maniera provocatoria a Santa Claus. Caro Babbo Natale, per quest'anno avevano scritto, volevamo chiederti di aiutarci a concretizzare un nostro sogno, quello di avere un porto funzionale, visto che la politica non riesce a risolvere i problemi. È considerato che la burocrazia li è grava con i suoi ritardi. I rappresentanti del comitato hanno chiesto in particolare a Babbo Natale che illumini l'illustre concittadino, nonché presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, perché si impegni ancora di più al fine di concludere le procedure burocratiche volte all'avvio dei lavori nel porto di Gela. Il loro auspicio è che per la stagione estiva 2017 il nostro porto possa essere già nelle condizioni ottimali per la sua regolare funzionalità. Ma Natale è passato e Santa Claus non ha esaudito il desiderio. La Sicilia che ricicla si tratta del calendario presentato ieri pomeriggio nella sala conferenze dell'ufficio speciale della raccolta differenziata a Catania. Il progetto editoriale, che raggruppa i comuni virtuosi in tema di conferimento dei rifiuti per tipologia, è stato promosso da Ecoface in collaborazione con Legambiente, Ecorepla e Regione Siciliana. Alla conferenza stampa hanno preso parte il direttore di Legambiente Sicilia, Claudia Casa, l'amministratore di Ecoface, Gero Larocca, il direttore per l'ufficio speciale per la raccolta differenziata della Regione Salvatore Cocina e Massimo Di Molfetta, responsabile dei rapporti con il territorio del Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi in plastica. Per i comuni inseriti nel calendario erano presenti il sindaco di Gela, Domenico Messinese e l'assessore comunale all'ambiente, Simone Siciliano. L'impegno messo dai miei concittadini, dagli abitanti di Gela, venga riconosciuto e viene riconosciuto da Legambiente con un lavoro importante dove vengono inserite in questo calendario le 12 città che si sono più distinte per la raccolta differenziata. Il lavoro svolto in quest'anno per cercare di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e quindi le percentuali di raccolta differenziata e la qualità della raccolta differenziata hanno dato i risultati che speravamo. La soglia prevista per legge è il 65%, siamo vicini perché oscilliamo intorno al 50%, è chiaro che non basta a questo punto fare soltanto comunicazione così come è stata fatta in maniera molto diffusa negli ultimi mesi, intensificheremo i controlli e cercheremo di fare in modo che ci siano delle agevolazioni per rendere più agevole e più interessante fare la raccolta differenziata. Il calendario sostanzialmente riprende 12 realtà siciliane, alcune in cui la raccolta differenziata è già abbastanza avanti, altre che stanno partendo adesso, altre che hanno bisogno anche di una spinta ma tutte sono delle località molto belle e siccome tutto il territorio siciliano è bello merita il rispetto, merita di essere rispettato appunto attraverso l'adozione di questa buona pratica. Gela tra le grandi città siciliane è probabilmente quella che ha raggiunto risultati di maggiore prestigio. Ovviamente Gela sappiamo benissimo che un territorio urbano così grande rappresenta presenta problematiche complesse e anche per questo dobbiamo ritenerci soddisfatti per il risultato che sta sfiorando il 50% e quindi va fatto un plauso a tutti i gelesi per questo traguardo che porterà sicuramente grandi benefici alla comunità. Gela con il suo 50% di raccolta differenziata ottenuto negli ultimi mesi dopo l'introduzione del cosiddetto servizio spinto porta a porta rappresenta una delle macro-municipalità del mezzogiorno più vicine alla soglia del 65% imposto per il 2020. A Gela nel calendario è dedicato il mese di agosto con l'immagine delle Muratimo Leontè. Protagoniste della foto realizzata da Maria Rita Cavallo sono le ginnaste dell'Acrobatic Group di Marco Cuvato, consulio Lisciandra, docente all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga e studenti, tutti diretti dalla regista Stefano Rizzo. Agli inizi del mese, promuovendo una fiaccolata, erano scese in piazza per chiedere aiuti concreti. Il lavoro è dignità, vogliamo che i nostri mariti tornino a lavorare. Loro sono le mogli degli ex operai dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela, stanche e deluse di ascoltare solo promesse. Adesso, assieme ai rappresentanti del Movimento Rosa per la Rinascita di Gela, hanno preso carta e penna e hanno scritto al presidente della regione, il gelese, Rosario Crocetta. Siamo donne, madri, compagne, figlie che lottano ogni giorno per la grave crisi che attanaglia la nostra città, scrivono. Dopo la chiusura della raffineria, molti operai dell'indotto sono rimasti ancora oggi senza lavoro, pur facendo parte della lista di disponibilità, alla quale si sarebbe dovuto attingere e che invece sono rimaste lettera muta e sorda per non aggiungere altro. Rivolgendosi a Crocetta, scrivono che molti lavoratori già hanno lasciato Gela per garantire un minimo di sopravvivenza ai propri figli. In questa tragedia sono coinvolte altre famiglie, altri settori, commercianti, agricoltori edili. Nessun settore è immune. La crisi è di tutti e paradossalmente siamo soli, tutti. Una città semivuota e senza lavoro diventa ostaggio della criminalità, sempre più spietata e ingovernabile. Noi siamo degli onesti cittadini che non si vogliono arrendere, che non fanno notizia, che differenziano i rifiuti e che amano la propria città, Gela, che anche la sua, rivolgendosi al governatore. Non volga lo sguardo altrove adesso. Noi non meritiamo tutto questo e siamo convinte che anche lei ne è cosciente. Abbiamo bisogno di aiuto concreto, propositivo, non procrastinabile. L'urgenza della situazione è sotto gli occhi di tutti. Siamo stanche di essere invisibili. Siamo stanche di fingere davanti ai nostri figli per non trasmettere loro il nostro dramma. Siamo stanche di combattere contro ogni forma di isolamento ed emarginazione sociale. Abbiamo trascorso, si legge nella nota, un Natale durissimo, amaro, senza lavoro, senza ammortizzatori sociali, senza futuro, ma non vogliamo tranciare quel flebile filo di fiducia che persiste nella politica e nelle istituzioni. Le donne chiedono al governatore Crocetta un incontro per esporre compiutamente e discutere finalmente in maniera esaustiva dei problemi che sono poi quelli di un'intera città e di riflesso anche del governatore, che di questa città è nobile figlio. Uno spazio colloqui, una stanza dedicata ai minori che incontrano il genitore recluso, si trova all'interno della casa circondariale di Contrata Balate a Gela. L'inaugurazione è avvenuta oggi grazie all'iniziativa del Soroptimist Club preseduto da Maria Grazia Falconeri. Il progetto nasce da questa esigenza e a livello nazionale sono nati di questi spazi colloqui, sono nati un po' in tutte le parti d'Italia, nelle varie case circondariali o all'esterno o all'interno e si unisce ad altri progetti nazionali tipo abbiamo realizzato la stanza tutta per sé dai carabinieri per le donne vittime di violenza che denunciano e quindi hanno bisogno di un ambiente favorevole e anni fa abbiamo realizzato pure la stanza al tribunale per un'aula d'ascolto protetto. Le soge hanno dato spazio alla loro creatività, al loro impegno dipingendo con dei murales le pareti proprio per dare una modalità di approccio a questo luogo che per il bambino può essere potenzialmente traumatico, diverso che in maniata ecco da fare la differenza anche per il minore. La stanza è stata ristrutturata e abbellita in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria con fondi della Soroptimist Club. Il progetto e la direzione portano la firma dell'architetto Marilena Rampanti. Abbiamo avuto la possibilità anche di muovere un po' la tramezzatura per creare uno spazio più ampio e poi di conseguenza si è creato sia con il pavimento che con la colorazione di dare una regola e un ambiente più accogliente. Il discorso della regola, la pulizia delle forme e anche delle geometrie, penso che sia stata la linea di conduzione di tutto il progetto. Il direttore del carcere di Gela, Gabriela Di Franco. Bambini e genitori potranno vivere una genitorialità più facilitata. Non è il massimo perché siamo in carcere e dopo i controlli di rito si entrerà, soprattutto i bambini avranno la sensazione di entrare in una stanza bella, nuova, differente, come se fosse una sala da te, quasi. E questo è l'ennesimo frutto di questa attenzione che la città di Gela, il terzo settore, l'associazione di volontariato, il Sor Optimus che ha un progetto nazionale, ha nei confronti del carcere e di ciò che rappresenta il carcere. Un presidio di legalità che però non dimentica l'umanità e la dignità della persona. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Il tempo passa inesorbilmente e gli operatori portuali di Gela assistono ogni giorno all'insabbiamento della struttura. Tante le promesse, ma la situazione non cambia. Anzi, adesso il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Enzo Cirignotta, a chiedere interventi immediati e concreti. L'esponente politico ha sollecitato la convocazione di un incontro prefettizio in merito proprio alla situazione del Porto Isola e del Porto Rifugio. Del caso è stato investito il sindaco Domenico Messinese. L'annoso insabbiamento del Porto Rifugio, dice Cirignotta, limita la navigazione in attanti sia da riporto che di sicurezza a supporto del sito industriale e delle piattaforme presenti nel Golfo Gelese e ha ridotto notevolmente il pescaggio. Il maltempo dei giorni scorsi ha ulteriormente peggiorato, una situazione già ampiamente compromessa. Non diversa è la situazione per quanto riguarda il Porto Isola. Di recente, il comandante della Capitaneria di Porto, accertando lo stato di degrado delle strutture e dei manufatti del pontile del Porto Isola, ha emesso una ordinanza che vieta il transito nell'area del pontile e delle pontilette, invitando la società raffineria di Gela ad adottare misure di protezione al fine di garantire l'incolumità delle persone. L'unica speranza, dice Cidignotta, è che non succeda nulla di serio a mare perché la situazione potrebbe precipitare in quanto i mezzi antincendio non possono più uscire dal porto. I mezzi antinquinamento, i barcaioli ed i piloti, partono dal porto di Licata con la conseguente dilatazione dei tempi di intervento. Una situazione insostenibile che sta penalizzando anche i pescatori che tra qualche giorno non potranno più andare a lavorare per l'impossibilità di uscire dal porto rifugio. I problemi di sicurezza, dunque, sono all'ordine del giorno. Si intervenga subito con il prefetto alla presenza di istituzioni ed operatori economici interessati al fine di sollecitare tutti quegli interventi necessari al ripristino della funzionalità del porto rifugio e del porto isola. L'Elena Bellardita, ricorsi, controricorsi, ricorsi storici, ma attualmente Gela ancora fa parte del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta e Catania attualmente si allontana. Sì, Gela attualmente si trova in una situazione di stallo, nel senso che fa parte del Libero Consorzio di Caltanissetta e nonostante gli annunci annuali ormai della presentazione di ricorsi a provvedimenti che sono lì ad uscire, ma ricordo che nel frattempo ne sono usciti a decine di provvedimenti, non esce mai quel provvedimento che è degno di essere impugnato. Ecco, ma da parte di chi dovrebbe essere impugnato il provvedimento? Mi pare che l'amministrazione comunale in persona del sindaco si era preso l'impegno principe di risolvere questa vicenda. Ha nominato fiordi avvocati, si è proceduto anche alla nomina di un assessore con delega specifica, per cui certamente l'attenzione sotto questo punto di vista non è mancata. Mancano i fatti, nel senso che alle nomine di fatto non è poi seguito null'altro. Ci sono stati tanti casi, il referendum nel primo episodio, poi c'è stata anche l'aggiunta che ha deliberato il passaggio di Gela a Catania, ratificato dal Consiglio Comunale, però come diciamo attualmente si muove realmente poco. Si muove il nulla, nel senso che ha gli annunci anche trionfalistici, annunci che sono stati fatti anche da parte di associazioni, però agli annunci poi di fatto non è seguito nulla. È giusto che la cittadinanza venga messa a conoscenza di come realmente le cose stanno, andare sui giornali, andare sulle televisioni e annunciare ricorsi di fide che poi non sortiscono alcun effetto con riferimento ai ricorsi. Addirittura sappiamo con assoluta certezza che nessun ricorso ad oggi è stato presentato. Penso che la città di Gela non se lo meriti. La città di Gela si merita verità, si merita chiarezza e si merita soprattutto fatti. Sono stati sottoposti al giudizio di una commissione regionale i 20 allievi dell'accoglienza turistica, gli altrettanti della sala e vendita e i 60 dell'enocastronomia dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio di Bartolo e il risultato è stato strabiliante. I ragazzi nelle diverse materie hanno sostenuto un esame sulla fondamentale comunicazione non verbale, sulla gestione dell'ospite, sulla preparazione di un menù completo dall'antipasto al dolce al servizio del vino. Un esame a 360 gradi sostenuto dinanzi ad una folta presenza di docenti, genitori ed istituzioni. Era presente anche il sindaco Domenico Messinese. Siamo molto contenti come istituto per la possibilità di dare ai ragazzi tutti gli strumenti, abilità, competenze in grado di poterli spendere nel mondo del lavoro. Sicuramente sono ragazzi che si inseriranno nelle strutture alberghiere, nei ristoranti, suddivisi in tre gruppi. Un gruppo che consegue l'attestato di operatore per l'accoglienza turistica, un altro gruppo consegue l'attestato di operatore per sale e vendita e un altro gruppo consegue l'attestato per quanto riguarda l'operatore enogastronomico. Molti di questi ragazzi continueranno a studiare, a completare gli altri due anni per poi conseguire il titolo di tecnico di operatore di enogastronomia, tecnico di sale e vendita e tecnico dell'accoglienza turistica. Devo dire che il nostro istituto, ribadisco, costituisce il fiore all'occhiello per quanto riguarda la formazione professionale, grazie appunto a questa alta specializzazione. Non dimentichiamo che raccoglie circa 650 alunni. I ragazzi inoltre hanno preparato dei video con 20 personaggi carismatici importanti scelti da loro, abbinati ad una dozzina di professionisti del settore, raccontando un fantasioso incontro con loro e spiegandone sia il profilo non verbale che le funzioni del loro lavoro in quell'occasione. Ognuno di noi stiamo portando dei personaggi storici, famosi, dei personaggi letterali, politici e anche sportivi, mostrando anche dei video. E niente, tutti emozionati, tutti felici per il termine di questo esame. Una delle allieve, inoltre nel suo racconto, ha immaginato di dover svolgere l'attività di direttore di un hotel nelle zone del centro Italia colpite dal violento terremoto. E la commozione per chi l'ha ascoltata è stata tangibile.